ciao ciao sono francesco di florio responsabile marketing mafra spa l'azienda leader in italia per la cura la pulizia delle auto l'azienda produce da quasi 50 anni cosmetici per auto la nostra linea spazza dal classico shampoo alle cere più sofisticate tutti questi prodotti si possono trovare sia in gran distribuzione che sul nostro sito internet www.autospa.it oggi siamo qua supercar auto show una fiera fantastica dedicata al mondo dei motori ea tutti gli appassionati che girano intorno a questo fantastico universo siamo nel padiglione tuning dove potete trovare le auto particolarissime sofisticate e elaborate abbiamo un'auto con impianti stereo da migliaia di watt abbiamo auto che non possono circolare su strada se non essere portati in giro con dei carrelli e noi abbiamo portato il nostro sexy car wash un evento unico nel suo genere in italia fatto da dei professionisti viene utilizzato in diverse occasioni sia nelle inaugurazioni di otto lavaggi sia in lanci di nuove attività commerciali lo portiamo in giro per i locali è un evento veramente fantastico passo la parola al nostro responsabile che si occupa appunto di portare in giro per l'italia e non solo in italia abbiamo fatto poco tempo fa anche un bellissimo sexy car wash in austria durante un raduno tuning che vi descriverà al meglio questo nostro spettacolo che sembra semplice ma delle particolarità molto molto interessanti filippo quadroico responsabile eventi sexy car wash power by mafra uno spettacolo unico spumeggiante ricco di contenuti e per saperne di più non resta che venire a vederlo con noi sharon e selena le nostre meravigliose bubble girls sterline di mafra ricordo a tutti che per avere informazioni sul mondo di mafra sui suoi prodotti sulle sue novità dovete contattarci a info chiocciola mafra.it scriveteci risponderemo in brevissimo tempo vi daremo tutte le informazioni di cui avete bisogno venite a trovarci ricordo il sito per la vendita e commerce www.auto-spa.it venite iscrivetevi e siete numerosi ciao a tutti buona giornata ciao a tutti 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 bad girls ciao a tutti